Allora, King Tong è un progetto musicale che abbiamo iniziato circa dieci anni fa, più o meno. Il nome viene da un'idea di Gino, che aveva trovato questa rivista, credo, che era una rivista pornografica degli anni 70, dove c'era il nome di un personaggio che si chiamava King Tong, era lingua, e l'abbiamo adottato. L'abbiamo copiato. Esatto. Quello che noi facciamo, siamo una band musicale, però non ci siamo conosciuti durante i studi artisti dell'Accademia di Brera, quindi abbiamo sempre mantenuto un legame piuttosto aperto con l'arte. Quello che cerchiamo di fare, quando facciamo un concerto, è di invitare un artista visivo, di volta in volta, a trattare la band come se fosse uno spazio espositivo. Abbiamo fatto più o meno, fino ad oggi, una decina di collaborazioni di questo tipo. Per questa sera lavoreremo con questo artista messicano, che si chiama Joshua O'Conn. e preferirei non anticipare quello che facciamo, se possibile, se va bene, perché vogliamo mantenere un po' l'effetto sorpresa. Comunque sarà un intervento apprettamente visivo su quello che noi... sul nostro concerto. E non so cos'altro possiamo aggiungere. Siamo ben sotto i tre minuti, quindi... Può vedere qualcos'altro? No. Ok. Ok. Ok.